Il vostro cuore ma abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte timore, se no vi avrei mai detto io vado a prepararvi un po'. Se siate anche voi dove sono io ed è il luogo dove io vado voi conoscete la strada. Dal 24 al 26 avremo questo momento straordinario, avremo migliaia di quanti, sapete quanto hai amato Trieste per quello che è successo nelle due guerre mondiali che ha passato, per cui mi fa molto piacere e poi oggi a Bergamo un grande abbraccio anche dalla popolazione. Siamo orgogliosi di averlo spettato a Bergamo l'anno scorso, crediamo che sia un bellissimo momento per la città, anche per far conoscere a chi non conosce la realtà dei fanti questa importante realtà associativa e quindi siamo felici di consegnare a Trieste con questo passaggio di testimone questa bella iniziativa e anche una bella occasione di incontro tra comuni. È venuto a Bergamo il sindaco di Trieste, siamo lieti della sua visita, è davvero un bel momento per le nostre due città. Grazie a tutti.